Un wargame è una simulazione realistica di un evento bellico di un qualche tipo, una battaglia, una guerra. A questo laboratorio ci siamo arrivati attraverso un percorso un po' anomalo, nel senso che Riccardo è un game scholar di formazione. Io lo sono di acquisizione, nel senso che quello che è successo nel mio caso specifico è che io ho passato un pezzo consistente dalla mia giovinezza a giocare a wargame, ma canetamente. Dunque negli ultimi anni con Riccardo abbiamo tanto giochiamo tanto e abbiamo impastito alcuni progetti appunto di articoli, di presentazione a convegni, abbiamo disegnato, anzi stiamo disegnando ben due giochi. E quindi diciamo a un certo punto abbiamo pensato di aprire questo tipo di lavoro che stiamo facendo anche agli studenti. e quindi insomma questo è il terzo anno del laboratorio che appunto che è un'introduzione a un tipo di giochi che diciamo che in Italia soprattutto non è che siano molto diffusi, ma che insomma hanno un audience di nicchia, però pur sempre un audience. Dunque l'idea, il progetto è un gioco sulla fondazione e la nascita dello Stato di Israele che parte storicamente dal periodo precedente, dal periodo che porta alla prima guerra arabo-israeliana e poi diciamo arriva fino alla fondazione dello Stato di Israele. Ed è un gioco simulativo diciamo così che ha una parte di wargame e una parte invece più legata alla simulazione di altri processi che non sono necessariamente bellici. E un paio di anni fa abbiamo deciso che questo argomento ci interessava che era un argomento che dal punto di vista delle sue complessità storiche e storiografiche Jaime aveva già affrontato per altri progetti e con altre intenzioni e altre finalità e che io conoscevo i modi e le pratiche con cui si può iniziare a pensare a progettare un gioco e a farne il design e quindi negli ultimi due anni ci siamo dedicati con un processo un po' duplice, cioè prima di consolidamento di quello che sapevamo di quella storia. perché ovviamente quando tu fai un gioco che è una simulazione di qualcosa devi chiederti che cosa di quel processo, di quel momento storico, di quell'evento si presta e in che modo si presta a diventare un gioco. E di lì insomma è un processo che sta arrivando direi alla fine a questo punto perché siamo in una fase abbastanza avanzata del design. Direi che è stato istruttivo perché ti fa capire da dove è nato il videogioco insomma perché qui si sta parlando di un gioco di strategia, un gioco tattico e sono gli albori di quello che poi sono stati i videogiochi, appunto anche gli strategici ma anche solo per una questione di game design o appunto di regole di gioco come tutti i giochi da tavolo da qui sono derivate le basi che poi hanno permesso al videogioco di emergere a quello che è poi diventato oggi. Io personalmente non conoscevo praticamente niente, nel senso ero molto... sono arrivato qua sapendo poco e secondo me il fatto che sia appunto molto interattivo come laboratorio ti coinvolge e quindi senza accorgertene impari tante cose. E poi è proprio affascinante scoprire cosa servivano ai wargame all'inizio, cosa sono diventati, la loro evoluzione. Secondo me è bello perché poi appunto potendoli provare concretamente, vedere effettivamente come si gioca e come sono stati studiati e tutto secondo me è di cattura ecco. Sì è vero, anche quello che c'è dietro, cioè la creazione del gioco. Per esempio quando il professore Alonge ci ha mostrato il gioco che ha creato lui insieme ad un altro professore diciamo che appunto ti appassiona anche il lavoro che c'è dietro, la creazione che è quasi una scrittura creativa appunto. Secondo me una delle cose più importanti di questo laboratorio che potrebbe sembrare una stupidaggine ma non lo è è il fatto che comunque si è seguiti e aiutati dai professori appunto Alonge e Passone nell'approcciarsi ai giochi. Quindi magari alcune persone potrebbero avere una sorta di difficoltà iniziale nell'approcciarsi perché spesso le regole sono molto molto complesse e quindi secondo me avere qualcuno che ti aiuta, ti spiega le cose magari anche con un linguaggio un po' più semplice rispetto a quello dei manuali ti aiuta a diciamo iniziare a giocare in una maniera un po' più serena e divertirti anche di più rispetto a essere da solo e dover fare tutto da solo. Secondo me la parte più interessante di tutto il corso è stato proprio come sono nato, come sono nato i wargame analogici nel senso che partendo appunto dagli eserciti vuol dire che sia un'attività ludica ma in realtà non è nata come attività ludica e questa cosa a me interessa tantissimo perché comunque noi ci stiamo giocando come semplicemente delle pedine e un tavolo una cosa che facevano per preparare le guerre, per preparare le strategie e addestravano le persone a pensare e avere una mente aperta a ipotizzare qualsiasi tipo di scenario e questa cosa mi ha fascinato tantissimo perché non lo sapevano in me quindi è una cosa che ho imparato e sono contento. Io sono un giocatore molto competitivo, io come dire sono una persona credo mediamente buona, corretta insomma non sono uno come dire che aggredisce gli altri però in situazioni di competizione divento una bestia quindi Riccardo lo sa e delle volte mi scuso anche perché come dire se faccio il dado sbagliato se perdo divento una bestia secondo me noi funzioniamo come coppia creativa per questo perché io invece sono un giocatore, non è che io non sia competitivo però prima di essere competitivo mi piace il bel gesto, mi piace il gioco che è costruito in modo elegante che può essere giocato con l'intuizione o nel gesto strategico inaspettato al di là del fatto che poi sia efficace o no Sono molto competitivo nel senso la competizione, sì stiamo giocando ma in realtà non stiamo giocando nel senso voglio vincere Anche io mi trasformo, diciamo sono la persona più tranquilla della vita e poi diciamo che non guardo in faccia nessuna neanche mia madre No, nel senso se giocando devo vincere, non ci sono parentele, amicizie, nulla Eh ma questo penso sia un po' per tutti, perché poi alla fine è anche un gioco quindi uno si fa coinvolgere Se uno non volesse vincere secondo me si perderebbe, esatto, si perderebbe il potere Ma se io faccio la voce fuori dal core a me è sempre interessato più divertirmi che vincere a tutti i costi E tutti diranno sì perché finché perditi devi dare una giustificazione No, per l'intatto sto solo giocando e quindi non mi interessa Sì io sono d'accordo con lui nel senso ovviamente quando gioco sia giochi da tavolo che videogiochi C'è sempre la voglia di vincere però specialmente se gioco con amici non è che mi impulso, mi arrabbio e preferisco anch'io appunto divertirmi e vedi Grazie a tutti